Romolo Mariano, una partita vibrante come gara 1, questa volta la Monini è stata costretta ad inseguire sotto di due set però non ha mollato, è mancato un pizzico di fortuna al tie-break. Ha detto bene, siamo partiti 2-0, 2-0 un po' contratti, loro hanno spinto e quando spingono possono fare la differenza, siamo stati bravi a venirne fuori perché ci siamo, ci crediamo, il tie-break è sempre un terno all'otto, in casa loro hanno fatto la differenza, oggi siamo andati ai vantaggi, bastava quella palla in più per chiudere noi la partita e andare su uno pari, così non è stato. Ora è durissima ma dobbiamo essere bravi a pensare a gara 3 e basta, provare le energie per gara 3. Quale aspetto potrà essere importante per ribaltare questa serie? Giocare come l'ultima parte di gara 2, essere aggressivi il più possibile al servizio e tenere il loro servizio che è un'arma fondamentale per loro.